Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La Regione Marche arriva a conquistare 17 bandiere blu per la stagione 2022, una in più rispetto allo scorso anno, grazie al rientro di Porto Recanati. La cittadina figura infatti tra le 14 new entry a livello nazionale. Il vessillo porto-recanatese si aggiunge a quelli riconfermati di Civita Nova Marche e Porto Potenza Picena, andando a completare e valorizzare la costa maceratese. Riconfermate per la provincia di Ancona, Porto Novo, Sirolo con i Sassineri, San Michele e Spiaggia Urbani, Numana Alta, Bassa e Marcelli Nord, così da valorare con il rientro di Porto Recanati, dopo otto lunghissimi anni, la qualità della riviera del Conero. È un brand importantissimo che certifica la nostra città come qualità turistica di eccellenza e questa è una cosa veramente che inorgoglisce a me come primo cittadino, ma sicuramente anche tutta la città. Il programma internazionale Bandiere Blu, guidato dall'organizzazione No Profit Fondazione Educazione Ambientale, assegna il suo riconoscimento di qualità alle località le cui acque sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, in base alle analisi eseguite dalle ARPA, Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. Sono 32 i criteri dei parametri di valutazione che comprendono aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano e aree verdi, raccolte e gestione dei rifiuti, servizi delle spiagge e delle strutture ricettive, fino all'impegno dei comuni per l'educazione ambientale. Un obiettivo raggiunto per Porto Recanati anche grazie al lavoro avviato dalla precedente amministrazione. Noi abbiamo presentato quella che è la domanda per essere riconosciuti con la Bandiera Blu, questo mi sento di dirlo, sicuramente anche il merito dell'amministrazione Mozzica Freddo ha lavorato bene perché oggi noi abbiamo questo vessillo così identificativo ed importante. Che cosa rappresenta per la città di Porto Recanati dopo così tanti anni che torna ad essere insieme a tutto il litorale che porta fino alla riviera del Conero Bandiera Blu? Sicuramente è un punto di partenza, questo ci stimola come amministrazione, questo ci dà modo di migliorare ancora di più quello che è la nostra offerta turistica, quella che sarà la nostra offerta destagionalizzata e quello che sarà Porto Recanati da qui ai prossimi anni. Con il nuovo protocollo d'intesa denominato Terre d'Oltre, stipulato qualche giorno fa con le città di Recanati e Loreto, la Bandiera Blu rappresenta un valore ulteriore da mettere nel carnet. Sicuramente Terre d'Oltre è un progetto lo stesso in partenza, un progetto su cui crediamo molto e abbiamo intenzione di investire molto e questo vessillo sicuramente è un valore aggiunto a quello che è il nostro progetto.